Assalamu alaikum. La scorsa lezione abbiamo visto queste lettere e abbiamo visto come si pronunciano. Abbiamo visto dalla lettera elif fino alla lettera shin. E oggi vediamo queste lettere e come si pronunciano. Questa lettera si chiama Saad. Si pronuncia come Es di Sasso. La scorsa lezione abbiamo visto una lettera molto simile. Si chiama Sin, soltanto che Sin è dolce. E questa ha un tono più forte e si chiama Saad. Una parola che inizia con Saad è Sabun. Questa lettera è simile alla lettera che abbiamo visto ora, soltanto che al punto sopra. E si chiama Daad. Questo suono si ottiene sollevando la lingua verso il palato ed appoggiandola contro i denti. La scorsa lezione abbiamo visto una lettera molto simile. Si chiama Del, soltanto che Del è dolce. Mentre questo, questa lettera, ha il tono più forte e si chiama Dad e l'altra si chiama Del. Una parola che inizia con Dad è Derson. Possiamo dire che Dad come D di Dado. Si pronuncia come T di Tavolo e di Torino. Una parola che inizia con la lettera Ta è Tamatemon. Tamatemon. Questa lettera si scrive come la lettera che abbiamo visto prima, soltanto che al punto sopra. E si chiama Daad. Una parola che inizia con la lettera Daad è Darfon. Darfon. Questa lettera si chiama Ein. Ein. Ha un suono gutturale che proviene dalla parte più profonda della gola. Una parola che inizia con la lettera Ein è Ein. Ein. Rain. Questa lettera è simile alla lettera che abbiamo visto prima, soltanto che questa ha il punto sopra e si chiama Rain. Rain. Ha un suono simile alla R francese, tipo Rouge, Rhi e ha quello prodotto dal gargarismo. R. Una parola che inizia con Rain è Raselon. Raselon. Questa lettera è facilissima. Si chiama Fe. Possiamo pronunciarla anche Fa. Fa senza Hamza finale e corrisponde al suono della lettera F. E una parola che inizia con Fa è Filon. Filon. Questa lettera si chiama Kaaf. Provate a dire Kaaf. Ha una parola che inizia con Kaaf. La prima è Qirdon. La seconda? Kalamon. Kalamon. Questa lettera come pronuncia è un po' simile alla lettera prima. Dovete fare attenzione. Questa si chiama Kaaf. Kaaf. Corrisponde alla lettera K. Una parola che inizia con Kaaf è Kutobon. Kutobon. Libri. Questa lettera si chiama Lem. È facilissima. E si scrive come L italiana, soltanto che al contrario. Una parola che inizia con Lem è Leimunon. Leimunon. Vedete anche Leimunon è simile al limone. Questa lettera si chiama Mim. Mim. Corrisponde al suono della lettera M. Qua abbiamo una parola che inizia con Mim. Mausun. Mausun. Questa lettera si chiama Nun. Nun. Corrisponde al suono della lettera N. Una parola che inizia con la lettera Nun è Nemiron. Nemiron. Mentre questa lettera si chiama He. Possiamo chiamarla anche Ha. Ha. Il suono è simile alla H inglese. Tipo House. Una parola che inizia con He. È HETIFON. HETIFON. Questa lettera si chiama WEU. Si pronuncia come la U semivocalica. Tipo nella parola UOMO e DUE. Una parola che inizia con la lettera WEU è WARDATON. WARDATON. Mentre questa lettera si chiama YE. Possiamo chiamarla anche YA senza HEMSA. Si pronuncia come la I semivocalica di IONICO. Una parola che inizia con YE. È YEDON. Poi alla fine abbiamo l'HEMSA. HEMSA. Alcuni la considerano come una lettera e alcuni no. Si pronuncia come A oppure come O oppure come I. E la possiamo trovare in queste posizioni sopra l'ELIF. Sotto l'ELIF. Quando sotto l'ELIF in automatico si legge come I. I. Poi la possiamo trovare anche sopra l'EU. Sopra l'IE. Questa lettera ha bisogno di una lezione solo per lei. Qua vi ho dato due esempi e poi cercherò di fare una lezione per l'HEMSA. Qua la vediamo sopra l'ELIF e si legge ANA. ANA. Che sarebbe IO. Poi qua sotto l'ELIF e si legge I. IBRATON. IBRATON. Che sarebbe AGO.